Parliamo di come dimenticare un amore. Questa è una domanda da 10 milioni di dollari. Anche perché per dimenticare un amore vuol dire che l'amore l'abbiamo avuto. Quindi accontentiamoci di quel grande amore. Poi il fatto che ci siano delle sofferenze dopo, quando ci lascia, quando dobbiamo dimenticarlo, è un rito di passaggio. E poi se volete saperne di più andate a leggere il mio articolo.